Bene, eccoci qua, benvenuti in questo scorcio di fine d'anno, siamo al 28 di dicembre, per questa ennesima lezione di ripasso di geografia. Questa volta trattiamo la regione scandinava, appunto sono stato sconvolto da questo concetto e l'accento va scandinava, va sulla av, mentre invece sapevo che era scandinava, invece sono stato corretto da qualcuno che ne sappi di me. Vabbè, speriamo che sia giusto così a questo punto. Prendete il vostro libro, questo qui, volume numero 2, pagina 56, e affrontiamo appunto questo ripassino. Cominciando, ah ecco, il ripasso è più recente delle lezioni, ok? Le lezioni sono dell'anno scorso, quindi potrebbe esserci qualcosa di cambiato. Ogni anno io arricchisco, aggiungo, sistemo, taglio, ricuccio e via dicendo. Allora, mi metto un po' così, eccoci. Allora, bene, la prima foto interessante è quella dell'Oresund, appunto un ponte di 16 chilometri che unisce Malmo, non so come si pronuncia esattamente in Svezia, e Copenhagen in Danimarca. È fantastico, è una cosa veramente interessante. Cioè, noi stiamo a litigare per il ponte sullo stretto di Messina e loro, tac, hanno fatto il ponte sull'Oresund. Molto, molto moderno, ovviamente, poggia su un paio di isole, se non vado errato. Appunto, le navi passano in questa zona centrale dove vedete i tiranti, ecco. Allora, l'estrime di assettenzione dell'Europa, vediamo pagina 57, la regione scandinava e baltica, oltre a Islanda, non vede, bla 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 bla, appartiene anche la più grande isola del mondo, la Groenlandia. Greenland, Greenland, che ha intrepreso il cammino verso l'indipendenza dalla Danimarca. Questa grande aree è il regno dei ghiacci perenni, il cosiddetto permafrost. Voi, ovviamente, avete la matita pronta, ok? Pagina 57, dove ci sono i ghiacci perenni, scrivete anche permafrost. Vi ricordo che il permafrost è uno strato di terreno perennemente, permanentemente, c'è queste basette che vanno in giro, e allora permanentemente ghiacciato, strato di terreno permanentemente, sempre ghiacciato. Almeno fino a poco fa, infatti è un grosso problema del riscaldamento globale, proprio che ultimamente questo permafrost tende a sciogliersi. E questo è un danno, perché in pratica il permafrost ha catturato dentro di sé enormi quantità di gas metano, che invece lasciato libero in atmosfera praticamente crea ulteriore effetto serra, cioè trattiene il calore che arriva dal Sole, trattiene in atmosfera questo calore e quindi aumenta il riscaldamento globale. Quindi riscaldamento globale uguale più scioglimento di permafrost uguale più liberazione di metano uguale più effetto serra uguale più scioglimento di metano uguale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è dell'arido paesaggio della tundra, la tundra popolata da renne, animali da pelliccia e orsi. La tundra, era la taiga, è la taiga che è abitata da orsi, renne e animali da pelliccia. E la tundra, pochi orsi, sono gli orsi polari al limite, ma le renne, sì, anche renne, va bene, ma... No, renne, stanno più nei boschi? Sì, a metà, dai, più o meno, in zona. La tundra, comunque, sono praticamente... La vegetazione della tundra sono muschi e licheni, perché le piante no, perché c'è il permafrost, quindi le radici non riescono ad andare in profondità, perché c'è il ghiaccio, fondamentalmente, no, ghiaccio, terreno ghiacciato, durissimo. Pensate che per lavorarlo, per gli uomini, per scrivere, che so, dei buchi, per metterci delle palizzate, delle palizzate, scusate, delle palafitte, usano la dinamite, cioè, è durissimo, quindi le radici, nisba. Al sud del circolo polare artico, invece, si estende la taiga. La taiga, numerosi laghi, ma la taiga sono sterminate foreste e boschi di conifere, betulle e conifere. Le conifere portano i coni, non i coni, gelato, anche se, in effetti, essendo molto a nord, potrebbero anche essere gelati, ma in realtà non sono gelati, sono pigne. Mai assaggiato il gelato, sapore di pigna? Potremmo anche provarci, gelato di pigna. Beh, e i pinoli si usano, i pinoli che sono nelle pinne si usano, ad esempio, nel, nel, quel cavolo di sugo, il genovese, il pesto, il pesto, nel pesto ci sono i pinoli. Allora, bla bla bla, gli antichi ghiacciai hanno modellato il territorio, frastagliando le coste di insenature di profondi fiordi. I fiordi, cosa sono i fiordi? Sono insenature, oggi occupate dal mare, ma che in antichità erano valli, scavate dai ghiacciai, esattamente come è successo con il lago di Garda. Ok? Valli scavate da questi ghiacciai che scendono verso valle, scendono per forza dell'effetto della gravità, scivolando su uno strato di acqua, perché il peso del ghiaccio scioglie leggermente l'acqua che ci sta sotto e quindi crea questo effetto di scivolamento e scavano i ghiacciai, scavano le valli. Le repubbliche valli, che saltatele, perché le facciamo per ultime nel programma di geografia. Io non ho capito perché in Stoliuro l'ha messa, cioè secondo me è un criterio che non ha nessun senso, perché sono tre paesi completamente diversi dagli altri che stiamo studiando. Allora, di che cosa non parla? Non parla della corrente del Golfo, ma sì, una stupidaggina, una cavolatina, chi se ne frega, non è importante, tanto magari fra un po' sparisce la corrente del Golfo. Sappiamo appunto che, no, per riscaldamento globale, potrebbero sciogliersi ghiacci dalla Groenlandia e questo potrebbe raffreddare tutta la corrente del Golfo e quindi farla sparire. Che bello, così per effetto del riscaldamento i norvegesi avrebbero più freddo. Logico, ci sta. Allora, scrivete, dai, corrente del Golfo, del Messico, quindi dall'America, ok? Corrente del Golfo, di acqua un po' più tiepida, diciamo, del resto dell'oceano, ok? Arriva fino alle coste della Scandinavia e anche oltre, addolcendo il clima. Conseguenze? Allora, fate una freccina in alto, ad esempio, piove sempre e quindi da questa pioggia abbiamo, fate una diramazione, una diramazione, eh? Abbiamo energia idroelettrica e di conseguenza industrie. Sotto l'altra diramazione, alberi e quindi, conseguenza, legname. Poi, questa era la prima, piove sempre. Altra conseguenza, quindi diramazione, vedete che è un continuo diramarsi, diramarsi non so se rendo l'idea. Allora, sotto, appunto, niente ghiaccio, mare non ghiacciato, no ghiaccio nel mare, risultato, due, pesca e navigazione tutto l'anno. Gli Stati, allora, Islanda, più vicina all'America che l'Europa, presenza di vulcani ghiacciai, poco popolata, elevato tenore di vita, Norvegia, Svezia, Finlandia, più avanzata il mondo, organizzazione sociale, alto tenore di vita, prosperità dell'economia. Danimarca, economia molto diversificata, alta qualità della vita. Poteva metterli tutti insieme, non cambiava niente. Allora, che quali sono le caratteristiche di tutti questi Stati? Tutti insieme, pronti a scrivere? Sì, siete pronti. Allora, vedono, soprattutto quelli più a nord si va, si ha il sole di mezzanotte, ve lo ricordate i filmati? Il sole di mezzanotte e l'aurora boreale, quando è notte, invece. D'estate il sole di mezzanotte e l'inverno l'aurora boreale. Poi, è la terra di origine dei vichinghi, la Scandinavia, la Scandinavia e la Danimarca, sono la terra di origine dei vichinghi. Ma forse io questa cosa ve l'avevo già detta. Già. Allora, e poi, vediamo un attimo. Tutti questi Stati sono caratterizzati da alta cultura, è un elevato livello di cultura, sì, di cultura generale. Religione, per lo più, sono protestanti luterani, cioè cristiani luterani, ma molti sono atei e c'è una forte minoranza islamica a causa della recente immigrazione dai paesi islamici. Appunto, dice, sono i primi posti nella classifica dell'indice sviluppo umano. E questo è importante, perché in pratica, anche qui, segnatevi, poi non abbiamo molto altro da scrivere, ok? Lo Stato, in questi paesi, assiste il cittadino in difficoltà. Si dice, virgolette, dalla culla alla tomba, ok? Sei disoccupato? Ci pensa lo Stato. Sei malato? Ci pensa lo Stato. Sei mutilato, invalido del lavoro, perché ti sei fatto male? Ci pensa lo Stato. Sei un bambino bisognoso di aiuti? Ci pensa lo Stato. Sei un vecchio, avevi bisogno di aiuto? Ci pensa lo Stato, ok? Ci pensa lo Stato. Però si pagano le tasse, eh? E tutti le pagano, e tutti sono attenti alle leggi. Dunque, allora, vediamo un po', vediamo la tabella sotto. Islanda e Norvegia non fanno parte dell'Unione Europea, ma, segnatevelo qui, fanno parte della Nato. Nato. Svezia, Finlandia, Danimarca, ok? Lasciate perdere gli altri tre, eh? Svezia, Finlandia e Danimarca sono nell'Unione Europea, ma solo la Danimarca è nella Nato. Prima o poi vi spiegherò perché questo discorso della Nato, ok? In breve, blocca, tra Norvegia e Danimarca, si bloccava la possibilità dell'Unione Sovietica, che oggi invece era presentata dalla Russia, insomma, di passare in mare aperto. Rimaneva confinata nel bar baltico la flotta sovietica. Poi vedremo, eh, meglio, chiedo scusa. Allora, le capitali, dovete saperle. Reykjavik, Oslo, Stockholm, Helsinki, Copenhagen. La mia pronuncia fa schifo e dovrebbero essere Reykjavik, Oslo, Stockholm, Helsinki e Copenhagen, una roba del genere. Quello che ci interessa, ma guarda, questi scemi ci mettono il PIL pro capite, non ci interessa il PIL pro capite. A me interessava l'indice di sviluppo umano, l'indice di sviluppo, guardate, spesa sanitaria per il percentuale del PIL, spesa per la ricerca, altissima, vedete? Proprio per questo stanno bene, perché non hanno problemi a buttare via proprio letteralmente buttano via i soldi per la ricerca scientifica e questo poi alla fine diventa un vantaggio. Comunque l'ISU forse, sì, c'è dopo, c'è dopo, dopo ve lo spiega l'ISU. Allora, avete girato pagine, abbiamo l'Islanda. Il nome Island è di origine anglosassone, anglosassone, terra dei ghiacci, ok? Island. A me risulta di origine germanica, di origine danese, la croce scandinava, bla bla bla, tanti saluti. vichinghi, primi a scoprirla, in realtà erano stati monaci irlandesi, è una repubblica parlamentare, interessante perché gli altri, l'Islanda e la Finlandia sono repubbliche, gli altri sono monarchie, moneta, corone islandese, la lingua islandese è una lingua germanica e quindi indo-europea, detta anche ariana. fa parte della Nato, la aggiungete voi, ok? Non è nell'Unione Europea, come vedete la popolazione è solo 300.000 abitanti, il PIL pro capite è 46.000 dollari, rispetto all'Italia, lo vedete, l'ISU, indice di sviluppo umano, cioè come si sta bene in Islanda, come è ben organizzata, siamo al nono posto al mondo. È piena di vulcani questa cavolo di isola, il libro segue un ordine diverso rispetto alle mie lezioni, vi dovete adattare. Le sue coste sono generalmente incise da fiordi, il paese più giovane della Terra, infatti continua a crescere perché si trova proprio sulla dorsale oceanica, cioè in pratica quella specie di cicatrice che si forma dal fatto che la zolla del nord atlantico si sta separando dalla zolla europea per effetto del movimento delle placche tettoniche e quindi si separano e questa diciamo spaccatura viene riempita da magma che forma nuova terra, nuova crosta terrestre e quindi l'Islanda cresce. Adesso non so di quanto all'anno ma cresce. Vorrei dire una cavolata? No, no, non voglio dire cavolate, però cresce. Allora, l'Islanda può essere definita una terra di fuoco e ghiaccio a causa della massiccia presenza di vulcani ghiacciai. I vulcani sono, se avete sottolineato, vulcani ghiacciai, bravi, sono più di 200, oltre alla metà attiva, cioè 100, più di 100 vulcani che eruttano, che fanno il casino, mamma mia. Diffusi e frequenti sono anche altri fenomeni come le acque calde, le terme, infatti fanno i bagnetti, allora ci sono le montagne innevate, fa freddo fuori, c'è tutto brutto, brutto tempo, grigio, nuvoloso, piovoso, nevoso, e loro che fanno il bagno all'aperto dentro le acque termali in costume da bagno, perché sono acque calde e scaldate ovviamente dal magma sottostante. Soffioni e geyser, cosa sono i geyser? Sottolineare, sapere cos'è un geyser. Geyser è un getto d'acqua bollente che sgorga dal sottosuolo, praticamente vapore che è messo sotto pressione dal calore del magma sottostante e butta fuori come fosse un grosso foruncolo. Ghiacciai sono un'altra componente del territorio islandese, ricoprivano una volta tutta l'isola, oggi lagune di iceberg, eccetera, eccetera, insomma, un sacco di ghiacciai da tutte le parti, poi fiumi e laghi sono numerosi, ma sono fiumi ciattoli, non è che siano, che so, il volga. Il clima è molto rigido nelle zone interne, siamo molto a nord, mentre lungo le coste, tipo oceanico, dagli effetti della corrente del golfo, soprattutto a sud. A sud si sta benino, nel nord invece fa freddino. Il paesaggio è tundra, erba, muschi, licheni e bassi arbusti. Alcuni boschi solo a sud, qualche buschetto, ok? Allora, guardiamo la cartina, vedete, tutto pieno di fiordi, vedete che il circolo polare artico proprio lo sfiora, sfiora l'Islanda, quindi di mid-estate praticamente il sole non tramonta mai. bassa densità, alto tenore di vita, religione protestante luterana, una minoranza professora cattolica, 77%, vuol dire che gli altri sono atei fondamentalmente, tenore di vita elevato, lingua islandese, delle lingue scandinave, scandinave, in norreno, che è germanico. l'81% è incolto, solo l'1% è arativo, cioè si può coltivare, se vi rendete conto, lo 0,5 boschi e il 17,5 prafis, cui allevano le pecore, le capre, poco altro. Allora, Reykjavik, l'abbiamo già visto per quanto riguardava le fire oil, ok, della Danimarca, vedete, un sacco di case in legno colorato, appunto, perché il panorama è sempre grigino. Allora, 300.000 abitanti circa, centri costieri, Reykjavik ha 209.000 abitanti, cioè meno di Brescia, fondamentalmente, fondata dai vichinghi, ospita i due terzi della popolazione, molte industrie, sfruttano le sorgenti calde presenti sulle circoline circostanti. È molto interessante questo fatto, praticamente, perché, no, lo dice dopo, lo dice dopo. Vicende storiche, monaci irlandesi primi, poi vichinghi norvegeti, e popolazioni celtiche, appunto, arrivarono lì, e poi dominio della Norvegia, della Danimarca, e fu indipendente nel 44. È una repubblica parlamentare, non esiste esercito, però fa parte della Nato, ok? E ha ritirato la domanda dell'Islandesi nell'UE, perché tanto stanno bene da soli gli islandesi, non gliene può fregare di stare nell'Unione Europea. Di cosa campano? Pesca, fondamentalmente pesca, sottolineare bene, pesca, l'attività fondamentale, merluzie a ringhe, balene, anche balene, è uno dei pochi stati al mondo che caccia ancora le balene, insieme a Norvegia e Giappone, anche se il Giappone finge di farlo per motivi scientifici, in realtà, perché se le magnano. Il turismo, per l'escursionismo scientifico, sportivo e ecologico, sta diventando la più importante fonte di reddito, perché è un paese affascinante, ok, vedremo, oppure, sì, vedremo, avete già visto, delle immagini della Danimarca, dell'Islanda, ve le farò vedere. Che cosa vi sono dimenticato? Ah, ma qui non c'è scritto. Vi ricordo che il tratto di mare che c'è tra Islanda e Groenlandia si chiama Canale di Danimarca, perché entrambe le isole appartenevano alla Danimarca. Poi, allevemento di El Palli, c'è pecore, vabbè, chi se ne frega, quindi il concetto è pesca-turismo, ok, pensate che hanno anche le piste ciclabili riscaldate, perché in pratica usano, è gratis, non è che bruciano niente, c'è il calore del sottosuolo che viene utilizzato anche per tenere sgelate le piste ciclabili e non ammazzarsi col ghiaccio. Datele ingenti risorse naturali è molto sviluppata l'industria per la produzione di energia idroelettrica e geotermica. non è basata appunto sul petrolio e il metano. Geotermica, l'abbiamo visto già la geotermia in Toscana per i soffioni boraciferi di Larderello, ok, si sfrutta il vapore, il calore prodotto dalla terra sotto forma di vapore e in pressione che mette in moto la solita turbina, eccetera. Negli ultimi anni bla 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 bla. Quello che ci interessa, quella è un'altra cosa curiosa, è che non hanno cognomi, sono così pochi, sì, non hanno cognomi, non hanno i cognomi, sono così pochi che non hanno bisogno del cognome. E allora come fanno a distinguersi? Facile, praticamente, aggiungono al nome proprio il suffisso son o dotir, a seconda se sono figli o figlia, figlio o figlia, del nome del padre, cioè con il nome, aggiungendo il nome del padre, praticamente, sì, non mi sono spiegato bene, hanno un nome proprio, al posto del cognome mettono il nome del padre e qui aggiungono il suffisso son se sono maschi, dotir se sono femmine. Ovviamente, sapete l'inglese, son, come in inglese, anche in islandese, significa figlio e dotir è simile all'inglese daughter, cioè figlia, che appunto è, l'inglese figlia appunto, per cui se Gigino fosse figlio di Gigiotto si chiamerebbe Gigiotto Son, Gigino Gigiotto Son, ok? Insomma, se uno si chiama Piero e suo padre si chiama Paolo si chiamerà Piero Paolo Son e se fosse una femmina sarebbe, che so io, Clara Bella Paolo Dottir, Paolo Dottir, oppure, che ne so io, Gigina Paolo Dottir, tutto chiaro, e cambiano, quindi, continuano, ogni generazione cambia, diciamo così, il cognome, eccoci, Norvegia, avete girato pagina, Norvegia in termini che significa via del nord, Nordweg, da qui infatti perdono gli antichi vichinghi, i vichinghi partono da lì, non partano dalla Normandia, ci vanno in Normandia, per esplorare le aree settentrionali fino all'Islanda e Greenlandia, se la solita croce scandinava, Oslo, monarchia costituzionale, corona norvecese, lingua norvecese, cioè germanica, quindi indoeuropea, fa parte della Nato, aggiungetelo, ed è al primo posto, primo posto, l'indice sviluppo umano, vi ho raccontato, se non sbaglio, di quel terrorista che ha ammazzato decine di ragazzi, di giovani, ha emesso anche delle bombe e si è beccato solo vent'anni di galera in una cella di lusso, in una specie di appartamento con tutto a disposizione. Allora, i fiordi, cosa sono i fiordi? Valli sommersi dal mare, e questo ve l'ho già spiegato, c'è scritto sotto a metà, a metà del paragrafetto, i fiordi sono stati creati milioni d'anni dall'azione di scavo dei ghiacciai che arrivavano fino al mare, le profonde insinature intervallano le stesissime coste, 21.000 km, ci sono dei fiordi che sono lunghi centinaia di chilometri, per andare da un punto all'altro del fiordo, guardate, ce l'avete sotto una foto, eccola qua, eccola qui, ci vedete, una bella del fiordo, per andare da un punto all'altro ti devi fare centinaia di chilometri in macchina, oppure prendi una barchetta e l'attraversi, che fai anche prima, altrimenti davvero, per andare da un punto all'altro prendi la barchetta o vai indietro, indietro, e poi ritorni in là, e poi fai ciao a quell'altro che è rimasto dall'altra parte, ma tu cosa fai di lì? Non dovevi venire con me? Adesso vengo a prenderti, aspettami, fra due ore arrivo, due ore, anche tre. Allora, fiume corso breve, grande portata d'acqua, e questo porta, ovviamente, energia idroelettrica, poche pianure sulle coste meridionali, esatto. Vedete la cartina, allora, della cartina, voi dovete sapere, il mar di Norvegia, il mare del nord, le Alpi Scandinave, che sono lì al confine con la Svezia, poi interessantissima, Oslo, anche qui vedete, vabbè, dopo la cartina, vediamo la cartina intanto, poi abbiamo, in alto, in cima, qua su, guardate, qua su, qua su, qua, c'è Nardik, ok? Segnate Nardik, e a fianco scrivete, porto fondamentale per l'esportazione del ferro svedese, porto fondamentale per l'esportazione del ferro svedese. Infine, più a nord possibile, capo nord, ok? Capo nord. Allora, appartengono alla Norvegia anche le isole Svalbard, sono molto più a nord ancora, sono quasi al polo nord, fondamentalmente, le isole Svalbard. Dove c'è la parola isole Svalbard, aggiungete, ok? Viniere, ricerca scientifica, frigorifero naturale, con la raccolta di tutti i semi, con la raccolta dei semi di tutte le piante del mondo. Per conservare, per questi semi, di essere sicuri di evitare l'estinzione di queste piante, il mondo intero ha messo lì, diciamo, una raccolta dei semi di tutte le piante del mondo, proprio, lì al freddo, conservarsi. I due paesaggi fondamentali sono la tundra col permafrost, riscrivetelo che vi fa bene, con muschi eccetera eccetera, la taiga, con foreste, poi ci sono orsi, renne, lepri, alci, volpi, bla bla. Allora, il clima costiero è di tipo atlantico, appunto perché è mitigato dalla corrente del golfo, all'interno il clima è continentale, con inverni molto freddi, freddi, freddissimi, un fenomeno caratteristico è il cosiddetto sole di mezzanotte e aggiungete l'aurora boreale. Popolazione città, bassa densità, chi se ne frega, ci sono i sami, che sono, avevi lapponi, detti anche sami, appunto, non più che lapponi, la religione più diffusa è la protestante luterana, la lingua ufficiale è il norvegese, che presenta due forme, il norvegese letterario è storico, il bokmal, bok, 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 è la stessa roba, è quello più recente, il nynorsk, ni, nyu, noi in tedesco, novus in latino, neos in greco, vedete, sono lingue parenti tra di loro. Allora, le vicende storiche, la norvegia divenne, sto leggendo della seconda riga, la terra dei viking, che dal VI secolo iniziarono le esplorazioni, finì in Islanda, Norvegia e America, aggiungete pure America, America, Vinland, America, oltre che in Europa fondarono i regni d'Inghilterra, Italia e Russia, Italia del Sud, Russia, principato di Kiev, e si sono dimenticati del ducato di, del ducato di, ducato di Normandia. Mi raccomando, non sono i normanni che prendono il nome da Normandia, è la Normandia che prende il nome dai normanni che sono arrivati da lì, cioè, che sono arrivati lì dalla Scandinavia. non il contrario. La Normandia è in Francia, vi sembra che i vikingi partano dalla Francia? Ragazzi, su, dai, sveglia. Allora, nel 1397 da Danimarca, restò indipendente, restò indipendente, tanti saluti, va bene, niente, non ci interessa il resto. Monarchia costituzionale, questo sì, fa parte dell'Unione, non fa parte dell'Unione Europea, infatti mi sembrava, per cui, stanno anche loro per i fattacci loro, se ne fregano altamente. Allora, cosa ci interessa di Oslo? Saltate tutto, le ultime due righe. a Oslo è consegnato, non viene consegnato, viene consegnato è un francesismo, l'uso del passivo, il verbo venire per il passivo è orribile, è consegnato il premio Nobel per la pace, il premio Nobel per la pace, ne parleremo del premio Nobel parlando della Svezia. Allora, per la pace, esatto, è l'unico, gli altri premio Nobel vengono consegnati in Svezia. Ancora ai primi posti, nonostante il rallentamento dell'economia, va bene, tanti saluti, risorse del territorio, soprattutto petrolio e gas naturale nel mare del nord, esattamente come l'Olanda, esattamente come il Regno Unito, il mare del nord, sotto il fondo del mare del nord ci sono giacimenti di petrolio e gas e molta della ricchezza della Norvegia viene proprio dal petrolio. Quindi, in effetti è abbastanza facile avere un buon ISU quando si è in quattro gatti perché la Norvegia è poco abitata e si ha un mucchio di petrolio a disposizione. Basta, basta avere i soldi e si diventa molto organizzati. Vediamo un po', sono solo 5 milioni di abitanti, capirai. Allora, produzione di energia idroelettrica, può esportare gran parte degli idrocarburi, è infatti uno dei maggiori esportatori di idrocarburi e costruiscono e costruiscono piattaforme di trivellazione. Eccolo qua sotto avete una bella, bella, bellissima, poetica proprio, gigantografia di una piattaforma di trivellazione. E aggiungete, aggiungete appunto l'energia idroelettrica, dove c'è l'energia idroelettrica, mettete, ciò permette lo sviluppo dell'industria siderurgica e dell'alluminio. perché vi ricordo che sia la siderurgia, cioè l'acciaio, sia l'alluminio consumano tantissima energia, ma se io ho l'energia idroelettrica me ne frego, perché tanto è gratis praticamente. Poi abbiamo tanta foresta, avete girato pagina per il legname, la cellulosa, la carta, la pesca, settore fondamentale, cantieri navali, industrie conserviere che lavorano nel pescato. Ovviamente il resto voi lo leggete, non è che leggete tanto io vi dico cosa insegnare, cosa c'è di interessante, la pesca aggiungete alla balena, che non è proprio pesca ma si chiama caccia, caccia alla balena. Agricoltura è un balena cicca o quasi, quello che ci interessa è appunto l'allevamento ma soprattutto degli animali da pelliccia. I maiali ce l'hanno dappertutto, anche in Germania, anche in Italia, quindi chi se ne frega. Quello che ci interessa, vedete, anche lì, vi ho detto nel Regno Unito le pecore. Perché? Perché c'è la famosa non marca, come si chiama, è un famoso tipo, che è quello delle Shetland, ok? Pecole Shetland. In Spagna abbiamo le Merignos e sempre nel Regno Unito abbiamo i bovini Hereford o Hereford, adesso non so la pronuncia, ok? Ecco, quindi vediamo le cose peculiari, particolari, non andiamo a vedere tutti i singoli allevamenti, perché anche in montagna sotto casa mia si allevano le pecore, quindi che cavolo c'entra? Allora, quello che è interessante sono gli animali da pelliccia, perché fa freddo e uno ha le pellicce, ancora si usano le pellicce, sì. Nella regione della Lapponia si allevano le Renne, la Lapponia è molto a nord, e i Lapponi in realtà si chiamano Sami, sono una popolazione diciamo particolare, non sono germanici, sono di origine molto più antica, probabilmente se trovi i servizi delle Svalbard vi ho già detto. Allora, io interromperei qui perché mezz'ora è davvero tanta già e Svezia, Finlandia e Danimarca lo vediamo in un altro filmato di ripasso. Mi spiace, vi siete annoiati, che ci devo fare. Così è la vita.